L'indagine è in corso e lo scorso fine settimana gli agenti di polizia hanno arrestato un 45enne nel corso di controlli è stata trovata una pistola pare con un colpo in canna e la matricola brasa sarebbero state sequestrate delle munizioni e somme di denaro non è chiaro se l'indagato fosse già monitorato è stato trasferito in carcere a balate dovrà presentarsi davanti al giudice per l'interrogatorio di garanzia chiaramente il fatto che ci fosse un colpo in canna nella pistola fa pensare che l'arma potesse essere pronta per essere usata davanti al giudice il 45enne potrebbe scegliere di rispondere alle domande sempre che non decida di trincerarsi dietro al silenzio ha comunque dato mandato ad un legale per la difesa si tratta dell'avvocato salvo macri tra le accuse c'è anche quella di ricettazione tutto quello che è stato ritrovato dai poliziotti pare sia stato sequestrato l'attività si è concentrata prevalentemente sulle armi e il fatto che più ha insospettito gli investigatori è legato alla presenza della pistola con il colpo in canna proprio sulle armi anche la locale procura ha posto ormai da tempo molta attenzione effettuando diversi sequestri e varie operazioni proprio per contrastare la disponibilità di arme spesso anche clandestine grazie a tutti grazie a tutti